7 incontri per informarsi, incontrarsi e far emergere un racconto variegato e partecipato di alcuni aspetti importanti della genitorialità. E' questo l'obiettivo di una serie di appuntamenti che sono stati organizzati a potenza dall'Associazione Latte, Amore e Fantasia in collaborazione con il Polo Bibliotecario e Biciclo Deposito Bagagli. Gli incontri che dureranno fino al prossimo 12 aprile avranno come tema centrale la genitorialità e vedrà coinvolti professionisti e professioniste dell'area materno-infantile. L'idea parte dall'assunto che la nascita di un figlio è anche la nascita dei suoi genitori e porta con sé numerosi dubbi e domande a cui non è sempre facile dare risposta. Queste si cercheranno di dare attraverso il confronto e il dibattito, il primo dei quali si è svolto presso il Polo Bibliotecario del Capologo di Regione Lucano con un'ostetrica Martina Montagano, esperta in allattamento. L'idea è quella di affrontare temi di interesse appunto per i genitori, parliamo oggi di allattamento, la prossima volta parleremo di relazione, genitori figli, parleremo di nutrizione e così via. Però l'idea particolare è di offrire ai genitori l'occasione di informarsi con esperti qualificati, quindi con medici, ostetriche, psicologhe e così via, ma di farlo in maniera leggera, con un minimo di leggerezza di ironia. I dialoghi diventeranno semisobri perché una parte del progetto si svolgerà presso un bar, deposito bagaglia appunto, occasione per i genitori di confronto e anche per rilassarsi, magari sorseggiando un bicchiere di vino. L'idea è quella che in una situazione informale di socialità i genitori possano esprimere più facilmente i loro dubbi e così creare relazione sia con l'esperto sia tra genitori e non solo a crescere l'informazione, ma anche provare a creare, a tessere relazioni e a condividere le difficoltà del ruolo genitoriale.